Il lungo weekend di Pasqua è già iniziato e Siracusa è stata presa di mira da tantissimi turisti che hanno scelto di visitare la nostra città e che probabilmente torneranno per le vacanze estive. Tra i siti più visitati dei turisti, oltre al centro storico, ci sono il parco archeologico della Neapolis, il museo Paolo Orsi e il santuario della Madonna delle Lacrime. Un andamento favorevole di cui siamo sicuramente contenti. Certo, con Pasqua gli alberghi escono dall'etargo e quindi siamo pronti ad accogliere questi turisti che fra l'altro pensiamo che siano più numerosi quelli stranieri che quelli italiani, almeno queste sono le previsioni. Possiamo dire veramente che abbiamo dei flussi turistici veramente generosi per questo periodo appunto pasquale, il 25 di aprile e anche il primo di maggio. Non facciamo più il turismo a mor dei fuggi. Siracusa viene apprezzata sicuramente proprio per quello che è la città, per il patrimonio archeologico, artistico, culturale che offre e quindi non si può visitare soltanto in una notte. Le posso tranquillamente dire che già i dati dello scorso anno, del 2018, confermano un aumento della permanenza media e quindi ne siamo soddisfatti anche di aver conquistato questo obiettivo. Che fra l'altro, attenzione, la permanenza media significa che la gente rimane di più a Siracusa, quindi spende di più e questo è certamente un fattore assai positivo per tutta l'economia siracusana. Per la giornata di domani e per Pasquetta le temperature dovrebbero oscillare tra i 15 e i 20 gradi, anche se il sole potrebbe essere offuscato dalle nuvole. Per chi si metterà in viaggio nelle prossime ore consigliamo di controllare il veicolo prima della partenza, di accertarsi di avere tutti i documenti di guida, di informarsi sulla viabilità prima di mettersi in macchina, di assicurare ai bambini i seggiolini, di indossare le cinture di sicurezza anche per i passeggeri posteriori, di non usare il telefono cellulare mentre si è alla guida, di fare soste frequenti e fermarsi al primo accenno di stanchezza, di rispettare i limiti di velocità mantenendo la distanza di sicurezza.